L'un di 28 ottobre, San Evaristo, Papa. È il 299esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 66 alla fine. Il sole sorge alle 6.42, tramonto alle 17.11. La luna si leva alle 16.49, tramonto alle 5.01. Persistendo la grave epidemia di peste e preoccupandosi di prevenire il contagio migliorando la qualità della vita, i provveditori della sanità ordinano il censimento di tutte le contrade, allo scopo di conoscere i nomi nativi dei nullatenenti e provvedere ai loro bisogni. Danno a disposizione altresì perché le arti e i mestieri non sospendono il loro lavoro. Le previsioni per domani. Cielo da poco ha parzialmente nuvoloso, con possibili locali nebbia in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, nonché nubi sparse dal pomeriggio. Scarsa probabilità di precipitazioni, temperature in lieve calo.